Buongiorno, dobbiamo avere il coraggio di porci seriamente in maniera diretta la domanda cruciale della nostra vita, che riguarda proprio la nostra vita, e la domanda è questa, quando finisce la nostra vita? Il Vangelo di oggi, da capitolotto di Giovanni, versetti dal 51 al 59, ci pone direttamente questo quesito nel modo di parlare di Gesù ai Giudei, un Gesù che rimanda alla promessa di Dio avvenuta attraverso Abramo e che in lui si compie, ma che gli ascoltatori giudei non riescono a comprendere perché hanno uno sguardo paradossalmente fermo a questa terra, alla visione di questo mondo mortale, considerando che Abramo è morto, infatti essi rinuncono a credere che ci sia una vita che continua, e dunque una storia nel tempo che è incastonata dentro la verità dell'eternità. Quanto dura la nostra vita? Certamente su questa terra gli anni che ci vengono concessi, gli anni che possono essere un dono nella misura in cui scopriamo che in realtà questa vita non finisce mai, ma solo viene trasformata. E se prima era una vita trascorsa per circa nove mesi nel grembo di una madre, in un mondo completamente diverso da quello che viviamo oggi e che questo di oggi ci era sconosciuto, a noi embrioni, feti e bambini nel grembo della madre, ebbene questa stessa vita che è in noi, che attraversa la nostra persona, continuerà dopo la morte perché ci sarà un'eternità che ci accoglierà per sempre, un'eternità che ci è già venuto incontro proprio nel figlio Gesù, colui che è compimento della promessa fatta ad Abramo, colui nel quale Abramo stesso rivive ed è presente con tutta l'intensità e la passione del cercatore di Dio che gli era. Abramo che è presente perché il risorto ha abbracciato in sé la storia di tutta l'umanità di sempre, di ogni generazione, di tutti gli uomini e le donne venute sulla terra. Dobbiamo porci seriamente di fronte a questo quesito facendo i conti con il nostro quotidiano sperimentarci intimoriti, impauriti, terrorizzati a volte dalla morte. La morte che è un dramma certamente, soprattutto la morte degli innocenti ancora così attuale e questo ci fa piangere il cuore, ma per poter credere che davvero si raggiunga una pace, cioè un rispetto della dignità delle persone che vada alla profondità fino a coglierne tutta la bellezza, c'è bisogno di guardare il mondo nell'orizzonte dell'eternità e credere che la misura della vita è quella della vita divina, che ogni uomo e ogni donna è fatto non per limitarsi a questa esistenza, ma per entrare nel regno dei cieli per sempre. Questo sguardo che non ha confini è l'unico vero modo per radicare la nostra esistenza in dei valori che possono affrontare anche le durezze, le intemperie, le ingiustizie, dei cuori che, troppo spaventati da pensare che questa vita è di passaggio, fanno di tutto per tenersela per sé e dimostrare di essere potenti, dominando e schiacciando gli altri con la presunzione di considerare se stessi Dio, anziché affidarsi all'unico vero Dio che ci dona l'eternità nella misura in cui ci lasciamo accompagnare nella sua logica di amore che apre le porte a una vita che non ha fine. Buona giornata